la ricchezza e lo spessore della conferenza con tanti relatori e tanti interventi. L'ultimo intervento è stimolante molto perché insomma dovremmo stare qui forse alcuni giorni per discutere se il capitalismo è diciamo anche equivalente militarismo e se poi non ci sono anche altri sistemi economici che generano poi anche come dire attività bellico o il militarismo stesso. Sarebbe molto lungo affrontare il problema come per esempio il problema della sinistra quella dell'interventismo e il neutralismo si è posto anche durante la prima guerra mondiale. Ho ascoltato la proposta di Brunetti che proponeva addirittura un Parlamento del Mediterraneo. Sarebbe già molto, sarebbe già molto importante, sarebbe già un grande risultato se noi riuscissimo ad avere una politica estera dell'Europa nel Mediterraneo perché mi pare che una delle situazioni che noi in questo momento viviamo e anche il conflitto Russia-Ucraina è la testimonianza, è la come dire la prova che non c'è una politica estera europea all'altezza diciamo della situazione e soprattutto non c'è verso i paesi mediterranei del sud Europa. se è successo quello che è successo in Algeria, in Libia, in Egitto o in altri paesi del nord Africa è la dimostrazione che non c'è una politica europea in tal senso. Quindi questa conferenza di livello credo nazionale o se non internazionale per gli interventi che succederanno anche in seguito quindi è sicuramente un grande contributo e un contributo al dibattito politico nazionale perché bisogna probabilmente cambiare registro. Ora noi che siamo cittadini del sud, anche qui ad Eboli, quindi come un paese, un comune, una città meridionale, non può che far piacere una riflessione in tal senso perché noi saremmo come dire un porto, saremmo un molo attrezzato per quanto riguarda questi paesi, potremmo come dire sviluppare rapporti commerciali meglio e più intensamente di come avviene adesso probabilmente non saremmo solo come dire paesi ospitanti anche di mano d'opera a volte non qualificata ma potremmo invece sviluppare rapporti economici e soprattutto anche di libertà e di democrazia anche in questi paesi e viceversa perché noi abbiamo anche degli scambi culturali dove sono di grandissimo livello quindi che avvengono anche nelle nostre città e devo dire anche nelle nostre scuole, noi abbiamo scuole qui ad Eboli dove il 40% dei ragazzini sono extracomunitari e provengono da paesi del Mediterraneo, del sud dell'Europa. Quindi non è un dibattito, è un dibattito che è un tema fondamentale di un livello eccezionale proprio per il momento in cui viviamo. Quindi non posso che essere come dire farvi complimenti per questa iniziativa che credo sia di livello nazionale ma che avete voluto fare ad Eboli nella mia città quindi io vi porto il saluto della mia città e credo e spero che questo dibattito possa come dire interessare anche le altre forze politiche ma a un livello diciamo di livello nazionale perché mi pare insomma questo tema lo abbiamo trascurato sicuramente anche nel dibattito nazionale negli ultimi mesi, negli ultimi anni dove invece siamo più attenti a quello che avviene nel nord Europa e invece non siamo attenti a quello che sta avvenendo o ha già avvenuto nel sud dell'Europa e diciamo anche il dominio della Cina in questo momento nei paesi del nord Africa o anche l'atteggiamento della Russia che ovviamente ha fatto una nazione militare verso un paese che sta a metà tra l'Europa e il sud, quindi l'Europa è evidente che bisogna, c'è qualcosa che non va e quando qualcuno prima diceva la Nato diventa un'altra volta il tutore o il come dire con il quale diciamo l'organizzazione anche militare ovviamente ma non solo militare ma anche politica che deve rimettere diciamo in piedi una politica militare o addirittura strategica per fare delle scelte che ci costringono poi adesso a condividere quindi bisogna fare una riflessione di che cosa quest'Europa vuole fare per il futuro se ritiene di avere una propria politica estera che possa come dire esportare la democrazia, la libertà e soprattutto il principio fondamentale della solidarietà popolare e degli stati che è qualcosa di importantissimo che noi dobbiamo promuovere sempre però per fare questo ci vuole una politica estera di questo livello e probabilmente però volevo dire alla amica giornalista del libanese libanese che purtroppo secondo me se non c'è anche una forza militare ma non per fare la guerra quindi anche un esercito europeo ma non per fare la guerra ma per dissuadere la guerra quella politica estera difficilmente la possiamo come dire esportare o possiamo come dire essere attrattivi ecco da un certo punto di vista per dire noi siamo l'Europa siamo un gruppo di paesi, un continente dove la democrazia, la libertà e se vogliamo parlare anche di modelli economici probabilmente ci dovremmo anche inventare o reinventare un modello economico che possa essere più equo più giusto rispetto alle varie disuguaglianze che pure abbiamo nei nostri paesi, nelle nostre città questo è probabilmente il compito che avranno gli statisti non coloro i quali fanno politica o i politicanti ma gli statisti dei prossimi vent'anni ecco una conferenza di questo tipo di grande livello anche culturale sicuramente potrà aiutare il dibattito e magari convincere qualche nostro parlamentare o altri quelli che magari nel prossimo anno si candideranno che questi temi non sono qualcosa di teorico sono qualcosa di molto concreto, la guerra in Ucraina, traduzione Ucraina, è una cosa molto seria e molto concreta e la politica estera se va in una direzione o in un'altra non è indifferente perché poi ha come dire queste conseguenze di ordine economico, sociale, politico e anche come dire rispetto alla libertà, la democrazia e la solennità dei popoli quindi vi ringrazio per l'invito e ovviamente vi auguro un bel buon lavoro e un bel proseguo anche per domani visto che si si potrà anche domani questo dibattito. Grazie a voi Grazie Grazie